Allora signore e signori buonasera, questa sera abbiamo il piacere e l'onore di presentare un tanto, teniamo a battesimo, una neocoppia di autori e un libro della felice editore, il libro si intitola Il Prescelto. Gli autori sono in ordine rigidamente alfabetico Andrea Camannossi e, sorprese le sorprese, Nici Giustini, che forse vi aspettereste di trovarlo in tutte altre vesti, mentre qui, se non altro, ha contribuito, che poi dei libri a quattro mani non sappiamo mai chi scrive, chi mette la trama, poi lo diranno loro, ma ha contribuito a tutta una serie di delitti abbastanza anche orrendi, quindi per gli amanti dell'horror è la serata adatta, ma sarà bene che siano i due autori a spiegare un po' cosa ha portato a quest'unione e cosa vuol dire questo libro. Nici Giustini. Salve a tutti, sì sì, io sono proprio al debutto come scrittore, come co-scrittore, insomma ho il grande Andrea Camannossi, vado sulla fiducia, lo conoscevo da una vita, leggo i suoi libri da una vita, ho detto riesci a trasmettere su carta le cose che io ti dirò, perché io avevo in mente questa cosa qui e lui ha scritto perfettamente quello che io pensavo, perché è difficile scrivere un libro, tutti a casa pensano eh l'ha scritto un libro, invece no, bisogna saperlo scrivere signore. E Andrea ormai è collaudato, anzi con piacere ho visto Andrea finalmente tornare a scrivere veramente un libro intero, Andrea in questi anni ha scritto molto, si è dedicato più a tutta una serie di racconti con ricette, sempre racconti ricordatamente gialli e un noir, ma sempre racconti. Ma Andrea come partenza sua di scrittore, era uno scrittore di gialli un po' in senso classico e qui tutto sommato questa è una storia che ritorna un po' sul giallo classico. Sì, ci ho voluto Niki per tornare al noir quello più duro, diciamo, dei miei primi tempi. Ultimamente mi ero dedicato anche a dei libri ibridi gastronomia thriller, invece questo è un noir puro, un noir quasi horror, oserei dire, però un noir semplice che credo che il lettore riesca a leggere tutto da un fiato, perché è un noir che ti porta dalla prima all'ultima pagina a cercare di capire come possa andare a finire. Niki Giustini, famoso anche per aver interpretato parti ultracomiche, però ecco, qual è stata la molla che ti ha portato un po' a avvicinarti a questa... non mi dire perché anticipiamo il romanzo ambientato in Irlanda, abbiamo scoperto anche che lui effettivamente è nato in Irlanda, quindi amore per l'Irlanda, ma anche amore per il giallo, amore per... cioè, questa storia, cosa ci hai messo nella storia a te? Allora, innanzitutto ci ho messo l'ambientazione, perché io sono nato in Irlanda da genitori italiani, però avendo vissuto un po' in Irlanda, a me quei colori mi sono rimasti, e quindi insomma, cerco di riportarli sul libro. Cosa mi ha spinto a me? I telegiornali, perché sui telegiornali si vedono tanti potenziali assassini che un secondo prima non erano persone normali, e questo qui, l'assassino di questo libro qui, in un secondo cambia la sua vita, in un secondo solo. Quindi abbiamo calcolato i tempi, per diventare assassini ci vuole un secondo. Qual è la difficoltà di scrivere un libro? Che con una parte della teoria di questo giallo non c'è un inquirente. Abbiamo, come anticipo, noi abbiamo però un assassino. Allora, te pensi abbia svolto il ruolo del giallista, dello scrittore. Ecco, qual è stata la difficoltà maggiore in un libro dove si ribalta la procedazione non sei che deve portare il lettore a scoprire un qualche cosa? Sì, guarda, allora, la trama appunto che aveva scritto Niki portava proprio a questo, che non fosse un giallo classico, bensì una struttura che assomigliasse più al noir, in quanto il protagonista, cioè la storia è vista dalla parte del protagonista, poi in alcuni punti è vista anche dalla parte della vittima, però in realtà è vista proprio dal protagonista che, come ha detto Niki, una persona normale che da un momento all'altro diventa una persona, tra virgolette, non più normale. E quindi, diciamo, mi sono spostato un po' da giallo classico, però in precedenza io avevo scritto dei racconti noir molto forti, Niki lo sa, l'ha letto, e proprio all'inizio della carriera effettivamente scrivevo noir più forti. Poi mi sono spostato più su giallo classico, quindi per me non è stata una grossissima difficoltà capire e cercare di descrivere ciò che Niki voleva e quei colori per l'Irlanda che lui aveva in testa. Allora, a questo punto noi ringraziamo Niki Giustini e Andrea Gammannossi che ci hanno parlato di una novità assoluta nel panorama del giallo italiano, ovvero il prescelto Felici Editore, che stasera inizia un cammino che speriamo sia lungo e fortunato. Buonasera a tutti e grazie di averci ascoltato. Grazie a tutti.